Questo programma vi ho offerto da Dimeco Expo Casa, grande offerta del mese. Oltre ai nostri prezzi già scontati, vi offriamo un buono sconto di 100 euro per ogni acquisto di euro 500. Da Dimeco Casa troverete un'ampia scelta di cucine componibili, camere, camerette, soggiorni elettrodomestici e divani, materassi artigianali dolci sonno rifiniti a mano a prezzi di fabbrica. Dimeco Casa, Valle Armea, Bussana di Sanremo. Con noi sei online. Siamo a Riva Ligure con Natalina che compie 102 anni. Natalina, lei sta festeggiando a Riva ma è di Arma di Taggia, il suo cuore è sia a Riva che a Arma. Eh sì sì sì. Oggi è grande festa, lei ha 102 anni e ha ricordi bellissimi proprio legati a queste terre. Eh sì sì, è un po' che sono qua da 15 anni che sono in Liguria. Ah, lei è in Liguria da 15 anni perché lei è originaria... Sono di Montese, sono di Bonforte e d'Alba. Qual è il segreto della sua giovinezza? Eh, niente. È morta mia mamma che aveva un anno e mezzo, mio padre aveva la matrigna. Se figura come sono stata con la matrigna. Brutti tempi. Brutti tempi, però lei ha sempre lavorato e ha sempre mangiato bene, diciamo, nel senso la salute. Abbiamo mangiato perché la campagna in Piemonte aveva grano e vino e tutto, ecco. Aveva tante campagne, mio padre. Clima buono e mangiare sano. Buono e mangiare sano, ecco. Adesso non si mangia più sano, adesso c'è tutto, tutto velenato. E qui grande festa ma ci diceva che i suoi figli sono fuori, vorrebbe salutarli anche se sono lontani? Sì sì, di qua si possono salutare. Sì sì, un saluto. Come si chiamano i suoi figli? Mia figlia, uno è Clara, è Cassa Clara. E uno è Luciano e gli altri, c'ho tanto nipotino, sono nonna, bisnonna, trisnonna. Grazie. Un saluto ai nostri telespettatori? Ecco, un saluto a tutti. E ringrazio tutti di aver venuto. Natalina ha tre figli, uno è in Francia ma due sono proprio qui. Lei come si chiama? Io mi chiamo Irma, Casto. E io Luciano. Voi siete di Arma, di Riva? Di Arma, di Arma. Di Arma, di Arma. Sono tutti di Arma, di Arma. Adesso mia madre abita qua perché mia sorella ha la casa qui a Riva e abita insieme a lei. E quindi festeggiamo qua. Siamo proprio davanti alla chiesa e sulla ciclabile, questo bar sulla ciclabile. E la mamma è sempre la mamma. E la mamma è sempre la mamma, sì. Anche se ha 102 anni, anzi, più va avanti e più ha valore, è vero? E un saluto al vostro, al figlio che manca, un saluto perché è come se fosse con noi. E a Clara, ciao Clara, purtroppo non ci sei, non ci puoi essere. Speriamo che ci vedi. È in Francia la... Francia, sì. Quindi Francia Italia, un saluto a Natalina. Siamo con il sindaco che premia questa 102enne proprio qui a Riva Ligure. E l'area di Riva fa bene. Questo è un ottimo auspicio per tutte le persone che scelgono Riva Ligure, sia per le proprie ferie che per abitarci. Lei è di Arma, ma ha scelto Riva per la sua vecchiaia e questa è la dimostrazione. Stare con mia figlia. Stare con tua figlia e bene si sta. Quindi... Io abito in campagna su Aldo di Castelletti da sola. Da sola non posso più stare, comunque ho le gambe che mi fanno male. L'aria di Riva è curativa. Secondo me c'è voluta anche una variazione sulla carta d'identità, sembra ancora una settantenne. Siamo proprio all'interno dello Schippi che confina con la ciclabile. E qui ci sono proprio sia i figli ma proprio gli amici di una vita passata con Natalina. Esatto, io un anno e mezzo che la conosco e un anno fa ci ho fatto una promessa che gli facevo la festa a 102 anni e l'ho mantenuta. Ed è stata una promessa mantenuta e ancora per molti anni. Speriamo, sono qua anche per 103, 104. Io ci so, mi fa molto piacere aver organizzato tutto e partecipare a questa bella festa. È un giorno di festa ma è anche un giorno di solidarietà. Sì perché hanno pensato, la figlia della signora ha pensato di donare, anziché far fare i regali, ha pensato di donare i soldi destinati ai regali alla Lilt, la Lega Tumore a Sanremo. E noi siamo ben contenti che anche in questa occasione, che è un'occasione di gioia, perché 102 anni non è che si compiano sempre, qualcuno ha pensato a noi. Grazie tante e veramente, veramente grazie signora. Io ho pensato per fare i regali, i regalini che abbiamo tutto, il giorno d'oggi abbiamo tutto. Ho pensato se uno vuole fare una piccola offerta, noi la devoliamo alla Lilt, così facciamo, non diamo l'utile al dilettevole. Siamo con le amiche di Riva, le amiche di Natalina. La conoscente, io vedo sempre la signora che passeggia qui sulla ciclabile. È un piacere enorme vedere una persona di quest'età, sana, che ci dà dei punti a noi, ecco che non siamo della sua veneranda età, ma speriamo di arrivarci così come ci è arrivata lei. Ci sono molti amici per festeggiare assieme con Natalina. E sono qui con noi proprio le amiche di Arma, lei è proprio Armasca Doc. Sì, io abitavo un po' vicino quando erano vicino a me, ci andavo tutti i giorni e siamo rimasti sempre amici. Vedi che da Arma vengo fino a Quattrovalla. Com'è, com'è Natalina? Bravissima, guarda, è una persona proprio squisita. Tutti qui per festeggiare Natalina. Sì, per festeggiare Natalina. Io la conosco da tanti anni quando sono sposata perché era amica di mia cognata, che abitava in via Castelletti, ed è una donna speciale, una persona molto cara, molto affabile, molto gentile, una persona speciale. Arrivare come Natalina, c'è un po', bisogna fare tanto di cappello. Tanti auguri, ci rivediamo al 300 anni. Eh, 300 anni, vuol che venga così vecchio, sogna troppo vecchio. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te.